Presidente, lei sa che tra poco in Italia ci sarà una rivoluzione civile? Sì, lei lo sa. Altrimenti non avrebbe affiancato l'esercito alle forze dell'ordine. Allora, la vogliamo finire con questa pagliacciata? Oppure dobbiamo aspettare i morti? La storia insegna, Presidente. Solo con i morti in passato ci sono stati cambiamenti. E non parlo di morti per Covid-19. Sia chiaro, questa non è una minaccia, ma un pensiero comune di giustizia e libertà. Voglio ricordarle che la maggior parte delle vittorie erano intrise di sangue e diversi leader sono stati giustiziati. Noi, italiani, siamo un popolo di persone buone, ma discendiamo da guerrieri brutali. Siamo in troppi, anche per gli eserciti. Attenzione!